Una gavetta della Seconda Guerra Mondiale, appartenuta ad Antonio Tersigni, classe 1919, cittadino di Sora, reduce di guerra della Russia, è stata ritrovata in Bielorussia negli anni 2009-2010 dai coniugi Respighi. La gavetta, recipiente di metallo usato dai militari per mettervi il rancio in tempo di guerra, è stata ritrovata da Maria Giovanna ed Antonio Respighi, i quali facendo degli studi sulle incisioni trovate su di essa, come lo stemma del 52esimo reggimento artiglieria, seguito da un nome ed un cognome, fatte proprio dal signor Tersigni per personalizzarla, sono risaliti, in collaborazione con Massimo Facchini, capogruppo degli Alpini di Sora, ai familiari del nostro concittadino. Il 5 maggio a Sora, in occasione della cerimonia di commemorazione per il 17esimo anniversario della scomparsa dell'alpino Luca Polsinelli, dopo oltre 75 anni, i familiari di Antonio Tersigni riceveranno per mano delle autorità l'oggetto appartenuto al loro genitore scomparso nel 2007. Ad illustrare il ritrovamento e la storia della gavetta di Antonio Tersigni e degli altri cimeli ritrovati, ci sarà Fabrizio Franceschelli, giornalista e storico della Seconda Guerra Mondiale.